Da un mese giugno si metteva d'accordo che prima non c'erano sindacalisti, però abbiamo una squadra di persone che hanno deciso di portare qua sindacalisti. Alla fine cosa è successo? Cominciano a fare accordi tramite il datore di lavoro e sindacalisti e gli mettevano i fogli sulla bacheca dentro alla ditta. Nessun accordo, fino ad adesso. L'ultima volta abbiamo fermato quando? Due settimane fa, tre settimane fa. A 22 di questo mese dovevamo prendere soldi. La prima rata. 22 niente, 23. Ieri abbiamo cominciato a stare qua, nel senso fuori. Comunque adesso sono quattro mesi. Di più, questo qua abbiamo un po' sbagliato. Più di quattro mesi che non prendete lo stipendio. Da parte i ragazzi che ce l'hanno 7,30 che hanno fatto a mese giugno a Lund, risulta il busto. I soldi dov'è? Alcune persone che sono venuti qua dove lavoravano prima ce l'hanno ritrati di assegni familiari. Io ce l'ho 3 mila di debito. C'è gente che debito di 10 mila. Operai sto intendo, non sto intendo di dirigente. Ho capito. 6 mila, 8 mila. Settembre, ottobre 9 mila. Voi vi occupate di carico scarico qui? Sì, pure i montaggi di pollini solari. Qua ce n'è lavoro. Lavoro c'è. E siete dipendenti del Bertola? No. Ah, non siete di qui? Qua c'è la cooperativa. Ah, siete di una cooperativa. Cooperativa sempre Bertola. Cooperativa interna. Una cooperativa interna che si occupa che è nata nel 2008. Ecco, questo qua deve fare un solo buono. Bravo!